vai ciao a tutti ragazzi sono yuki e benvenuti in questo nuovo episodio questo nuovo video di counter streak siamo 5 contro 5 i gg contro i gg perché siamo tutto network e leggere tutti i link in iscrizione non saltano ora arriva la parte seria ora ci incastreremo tutti ci piccheremo ci scanneremo non si leggono i nomi grazie a game hosting abbiamo un server di 128 tic guardate l'ip c'è rotturato di ping eccetera eccetera ma basta vado le cianci e la parte le badanti con le mutande scanniamoci e lottri!" ciao buona fortuna buona fortuna a Button Mi ha ucciso mi ha ucciso, vai ii traditori che si ferma che vada lì a occhio sicuramente quando vi attaccate 3-2Grove aspetta la SEMPPA! Ciao ragazzi benvenuti in partita salve change giù salve ok vi facciamo la ritenza comprare i partiti andiamo ma io ho capito e 50 granate e andiamo frappe ramai non è proprio che si trattiva ieri giovani e dai dai non è stato in vento guarda come se eravamo il long ci stava anche facevano un rachel raccomando che avete sulla destra non mi fate sparare ma è già c'è gente vai ora mai mai ragazzi anche veloci dai ragazzi bombe ragazzi tenta porte che arrivano testo per sovante poi l'inizio su bombe traga aiutate ragazzo uno su bomba ragazzi sopra dai e blick non muore ratto comunque arriva non sai ma che ragazzo è che noi ci vediamo ragazzi che questa è una mappa totalmente ct quindi più round vinciamo in t significa in attacco è meglio eh esatto poi vissi e mentre la gente invade la bomba tu non guardi le porte aiuterebbe sto guardando sopra da cosa oh raga vai c'era c'era quello in bomb 7 che diffusava e killava la gente e lui guardava la porta ragazzi sarà una partita finale con un portomane oh raga li arriviamo tantissimo ma franco c'è si 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 ci sono ok va a parlare tranquillo non ti denunciano facciamo così nemmuina nemmuina no non ci siamo tantissimo ma erano ci sono le spesso aiutate ragazza tanti tanti un importante con due kill è buona raga dai 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 ciao se la soglia non è stata accaduta hai visto hai detto che lì se funziona hai ancora un eco ragazzi non cominciano mila e nove e chi se ne frega non ci interessa non sei un'idea persona 50 e bass ma prego in mano che facciamo vai di nuovo a di 9 è molto l'aspetta cosa aspettano quindi io non ero ne ho 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 mi chiede raccomando sui luke spari tutti sui luke fuoco fuoco ecco il pd già la c'è la vp siiii dai vabbè corretto vabbè corretto vabbè corretto vabbè corretto vabbè corretto vabbè non ti fermate eh singhanno preso come ti ha preso vabbè singharti dietro cercate per andare vai vai e ne ho beccato uno non è colpa mia non dobbiamo va lasciamo di nuovo perché a me la città non ce l'hanno adesso una buona che mai volete provare fuori che gli ho comprato la bupia forza ma soldi no 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 una solda ma non c'è l'ha fatto non c'è la parola ripresa no 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 impossibile aspettare aspettare c'è la bupia aspettate provvediamo a fai guarda un attimo xan faccio un po' più lunga in garage la c'è la smog garage eh io non lo so attraverso non so però se c'è arrivato vai ok c'è lui c'è lui c'è stai con la buca aperto guarda ragazzi lasciate vai 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 c'è del long 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 vai vai garage ah c'è un altro ragazzi c'è un altro a merda eh ma ha fatto uno e ci ha fatto tutti ci ha fatto oh mio mamma mia con quella bupia una bestia che faccio allora allora che faccio vuole molta qualcuno ragazzi da luca da dietro corri da 24 fermati bravo mamma mia dove sono messa dall'angolino più due moto della zona fiat Tranquilo, 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 la WP No, ce l'hanno ripreso No, l'hanno recuperato, uno non l'hanno recuperato No, l'hanno recuperato No, l'hanno recuperato Era non tre, erano Dai, andiamo a rampe No, erano ieri, dai Raga, come ieri Ramp, 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 ramp Non mi fermate Via Via Mamma mia, raga Mamma mia Mamma mia Che cosa non ho combinato Da dietro, peccato, va cattiveria, sai Attenzione che ci dà il chip con la WP, va via Flasciatelo, flashatelo Infatti c'è chip con la WP Via Ho flasciati tutti, ho flasciati tutti C'è vatti, vai vai Aiuto Eh, chip mi ha Peccato ragazzi, dai che sta lì Bravissimi, raga, vai Raga, ramp, andiamo Flascio Vai, vai Ok, condotti, c'è l'ho Condotti, condotti, condotti Vai, fatto Perfetto C'è l'ho uno il condotto destro Uno il condotto destro Arrivi subito Uno il condotto destro Prendo buona, prendo come piazzo Sì, sì Per quello Eh, ma se prendiamo come più ziti arco Ah Eh, chi è l'ho comperto Sander, mi hai copri Sì, ma non si è facciata Io ho fatto un rinchi Scusa, allora Ma in foto Ragazzi È pronto? Ah, ok Pronto, buona sera Hai visto il piedino? Eh, sì, l'ho vista Ho visto il piedino Oh, siete solo tu e lui, eh Non ti affacciare Forse nell'altro condotto Eh, devo andare 30 secondi Ecco Perché hai cambiato Ma perché hai cambiato, cazzo? No, 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 no 20 secondi Vengono Occhio il condotto Dov'è la bomba Quindi la bomba Altra parte La presso No, no, no No, no No, no, no Dove ho plantare Giù Non posso Sì, ma 10 secondi Ma io Non mi Non mi Non mi Come pure Eh, il problema Sa che mi Devi coprire Io non capisco Facciamo Tutte due Sul bomba E se avete sbagliato Tutto lì Non so Come E io Sono Dietro Eh, no Io ho detto Di non plantare Vi ho detto Con tutto Testo Non mi Ha Non mi Ha sentito Infatti Il Un attimino Eh, non crepate in effetti Flash Dai Eh, non ho bombe Facciate Facciate Ah, ragazzi Via, 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 c'ha l'insegnato, via, 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 via Vado, aspettate, no, finisce l'incendio Nella Ragazzi, c'è la popi, non passatevi camminando, saltate Non c'è nessuno Ok, flash No, che cosa 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 No, non c'è la popi, dietro cassa E metà C'è e c'è, 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 c'è Veloce Gli E Io vorrei provare ad andare a prendere col condotti Oh, attento, attento Frank Eh, devo prendere la bomba Frank, non planti la bomba, si prova Che palle Ulisse Basta Concentrato, Ulisse Mamma mia Eh, aspettate, dobbiamo fare un attimo qualcosa Eh, dietro la porta ti ha preso Non possiamo ancora lasciarcela più di tanto così Comprate tutti una smoke e smocchiamo tutta Esatto, ci vuoi smoccarlo, perché Esatto, ci vuoi smoccarlo Allora, io smocco Smocca la porta, vorrei che è aperto prima Io smocco qua Bello, perché smocchi qua Perché bello No, no, fantastico davvero Vai, vai, smocca Apri, apri, ti ho Smoccate dentro, addirittura Smoccate da qui Dentro, buttate dentro, vai Vai, entriamo Vai, vai, vai Non riesco Come si entra dentro Ma io Dov'è la porta? Non so dove la porta Mi son perso E' sopra, raga, è sopra E' sopra E non muore E non muore, assurdo Aia, aia, aia Beh, vabbè, ciao Di tutto c'era qua Eh, raga, è solo Diciamo Abbiamo sboccato malissimo, eh Diciamo Diciamo che La sboccata Non è andata Proprio Ma io non ce l'ho Diciamo che Erano leggermente sbagliate Ci siamo sboccati i costi Giusto Cavolo, fai Sto fa troppo lo sceno Vai, raga Ragazzi, sono entrato Bevo, della rischia Lì, Bevo, c'è Luke fuori Te l'ho detto, Bevo Come c'è? Dove sei morto? Oh, attenzione, non ti affacciare Zitti, zitti, zitti Ho fatto Weisinger Buoni, buoni, buoni Ragazzi, c'è chip Quella, ricordate che c'è chip Ah, dietro però Attenti Dicè chip che spara con la Con la bucchina Sì, c'è uno sulla destra Ecco Mi sa, raga Raga, mi è esploso l'audio Tip non si muore di un bricciolo Quindi via Raga Ragazzi, stanno arrivando da là Ah, io sto qui Arrivati Eh, raga, sto qua Dove Abbiamo 32 secondi, raga Ok Uno si nasconde appena vuole doom Ho Yoma Non guardate tuttima stessa roba Attenzione poi anche la condotta guardando paradiso con la pietra comitè gioanche a gara brano guarda condotti. ma penso se la salvi che si sa salga c'è la pupi vabbè ragazzo ha tornato una testa andiamo a dare una cosa non ho spero ancora che c apre aveva di amare a bambar pari a pari no vabbè carattere il cuore della l'ambiente oltre d'inizio di sottotitoli santi oa giuare non è vero per una volta facciamo la stessa tattica ragazzi il mio amico poverino campiglia ma non possiamo non possiamo lasciare da una cosa aspettato l'attacco in tecnologico non voglio dire che non possiamo lasciare verso l'amore che si vuole poter provare a sparare agli occhi che sta fuori da questa ecco ma io faccio una cosa mi metto qui che buco esingale che rascia di solito io gli ho smolcato qui ok siete voi siete voi mamma mia la concentrazione via flash mamma mia trova che vi muovete hanno chiuso porta mi ha spottato fosse quello granato serve qualcuno che copra insieme a me perchè a me mi arrivano in faccia in alivio sto mirando dove sta il look sto mirando fuori proprio al garage posto aspetta ti devi spostare un attimino non riesco a passare è l'unica punto per vedere qui ragazzi io ho bomba e non possono non possono spottarmi aspetta 40 secondi andiamo in a senti a passare senti a passare come t'ha fatto dai raga dobbiamo andare dobbiamo andare dobbiamo andare ciao ciao entriamo ormai è la bomba vai entriamo vai entro io ragazzi sopra vai è sopra è sopra è fatto ce ne sarà un altro che è con altro sopra sopra l'uomo l'uomo per l'uomo la cacchio mamma mia la donna ecco ragazzi vabbè andiamo dai ecco va bene i due cinque apriamo a sto punto proviamo a fare un raso a rampe e muovetevi di lato camminate è riuscita a camminare tutta a destra cioè non è difficile scrivere colpo esatto basta che lui sbaglia il buon colpo per favore se volete vado prendo io la bomba io e Giove facciamo vedere come scrivano non è difficile so come si fa vai 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 vediamo dobbiamo smoccare chip no l'importante è saltare qui questo è il punto ah raga ci hanno fatto aspettate aspettate questo è il punto importante ecco aspettate che finisca aspettate che finisca camminate schiacciati sulla destra vai 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 andate ho smocato chip ho smocato chip ho smocato le casse prendete chip prendete chip prendete chip ho preso ho fatto l'ho fatto l'ho fatto prendete le armi prendi prendete chip prendi esingarly si raga raga andiamo da raga ah vabbè paradiso mi sta bene infatti infatti dai paradiso dai paradiso dai prendito la vp ok io mi prendo questo ok piano ragazzi attenta la vp raga paradiso su faccia salita 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 dai salita salita ragazzi controlliamo qua ok andiamo no io ho la bomba faccio plantate 40 secondi dai però ma che state facendo dai se se per di tempo vai plantate ragazzi planta plos siete in a si si plantate attenti da la garage copri paradiso sono i ragazzi urtano raga raga pulite corretta blu ed link ragazzi lì al garage e lobby no 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 vai come non un caldo vai tg salita nese nese perfetto prendiamo prendiamo sottotetano carina tranquilli comprio che vi serva k no no so no noi apposta dai ottimo cerchiamo di vincere il più possibile in attraverso c sono fatti movimenti importante andiamo di nuovo in rampa e se facciamo ci si è messa uno non può far altro e pensi è quello il primo popolo mista testati non c'era fai un possibile saltate saltate mi smontano poco qualcosa meno le volare l'incendiaria ma mai ben flesso soffio a spazio si vede uscire vai andiamo andiamo in pieno qualcuno che è preso esida e c'è solo chip sono ci ragazzi smocco raga smocco mi raccomando e trocasse passate ora passate ora passata da prendere chip dai guarda lo che io mi chiede mi ha bloccato lancia giu lancia dai ho fatto giu dai ho fatto giu vai prendere la vp la vp giu avvista raga prendete la bomba prendete la bomba io copro la ponte a plantare raga copritemi però che c'ho la bomba eh non ho le coperte non ho le coperte anche in quel senso ce n'è già uno in condotti mi sa io mi sa che me ne ritorno in paradiso ma se è un paradiso vai no però giu a questo punto non potrà paradiso 30 secondi raga è una cosa ragione dai veloce non fate casino nelle storie no no c'è uno in paradiso è uno da paradiso ah merda oh ma è uno che cambia eh spareva oh potessi prendere la vp e prendere la vp oh oh beh 20 secondi 20 raga ah la che è spoccato giu dai giu butta ti planta giu sta lì giu sta dall'altra parte copri giu frank frank vai coprila ecco lì eh te pareva ok eh ok dai ma c'è la copertura la copertura ah blink è stato ucciso eh frank dove sei lì su che è già stato in posizione aeree con la terra avevano sboccato non c'è la mia arma che vuoi te prendo un pino anche per te lo puoi prendere pure ammessa ok per me non è stato il france stessa cosa che parere di sesso quando sta funzionando a volte a me lo c'invira e andata subito c'è un momento smoccata raga e cercate di non morire per che ho bisogno di copertura la filete la cosa migliore da fare ragazzi state smocco da nuovo eri smoccato di nuovo si adottò no dovete smoccare io lo vado a fare come prima non ce l'ho la smocca ah no ma non c'è un centesimo vai vai passiamo ora vai 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 ti farai a testa esingar l'altra parte uno rampe uno rampe è normale prendetelo eh uno rampe c'è effetto ho fatto ci si parla eh ragazzi esingar eh c'è effetto guardi che sto facendo dei kill esingar oggi eh vabbè hanno le armi considerate esingar ha fatto attorsi surdo mamma mia ma io sono in ecco ma stiamo scherzando andiamo vai andiamo di più quanta di no andiamo in andiamo in eco giù flash smoke proviamo fuori volete provare fuori ma c'è il gioco però non mi fermate faccio così non mi fermate questa volta direttamente in A tutti insieme a blocco però senza smoke a blocco proprio vai aspetta però aspetta aspetta tutti insieme due dalla porta e tre da qui vai 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 dentro dentro no ah c'è la merda eh lo so ma sei qua non mi feglia appena esco dov'è plantate la bomba eh vai raga dovete plantare però eh chi ha la bomba chi ha la bomba ho ci sono ho ci sono Luke ah vai Frank Frank sopra ho fatto chip ho fatto chip planta planta Frank plantate manca solo esingar planta planta oh coperte 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 eh eh vuole defusare ma c'è la strage esingar sta rifusando lo sta rifusando no non sto defusando bella 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 prende l'oggi di esingar eh so mi convince molto eh P90 è più utile eh è taccato è taccato quell'oggi ma te li ha fatto un sacco di kill eh c'è il P90 vai se fate un attimo i movimenti bene li spacchiamo vai raga dai tu vogliamo ma facciamo una bella cosa avete granate che esplodono eh no ho soltanto ho soltanto granate che fanno no raga adesso si aspettano di nominare non di rampi cambiamo no infatti no scusa se tiriamo tutti la granata da ship quello muore aspetta vai dai vai quando volete vai vai quando vuoi vai vai passa passa vai vai dai da cazzo vado dietro ma porca vado bomba troppa eh merda luce eh cazzo ma cosa stai facendo esigna oggi ma cazzo ragazzi no ragazzi ho fatto due esigna senza senso esigna ronco ecco 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 non compriamo p250 vai problematica 50 poche facciamo vogliamo fare facciamo da fuori dai proviamo sugli occhi ma non abbiamo ancora mai fatto quando non è giusto rischiare loro lo sanno facciamo sempre noi aspettate che smucco garage aspettate un'altra c'è una domenica andiamo fuori vabbè eh sì 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 guardiamo tanto perché non se lo aspettano aspetta aspetta ma è tutto coperto è tutto coperto vai 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 via 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 passare passare saltate 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 vai veloci corri corri tutti i b tutti i b vai con la smoke bella raga bella chi planta plantate qualcuno planti una salta prendete l'arma prendete l'arma l'ho presa l'ho presa plantate 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 occhio frank sinistra frank car eh te pare scalette due scalette attenti due scalette eh no pepo sta fuori dico pepo pepo che si la nasconde dentro un magazzino ah pepo è andato direttamente iac pepo pepo no pepo ah ma l'ho buco plantata quindi che tu aspetta salva la pissona pepo mi nascondo aspetta che arriva bella 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 pure rovinata cosa sai ma non hai visto al mercatino dell'usato cioè a sto punto esi oh a 5 secondi eh non ti basta in vivo ha fatto casino me lo vedo allora sta a fa posta sta a fa posta tutto calcolato si come se qua li escono almeno finiamo la 12 a 4 è finito è finito è finito ragazzi ragazzi ricordiamoci che è una mappa totalmente difesa ieri abbiamo fatto il rimontone quindi vai raga abbiamo fatto il rimontone enrica pretta dai dai ragazzi io rai lo so e fai una guilt e facendo applausi uno che viene con me a coprire la raga posso killarti ah ulisse 014 dai ulisse a sto punto a sto punto nevi avrebbe fatto di più tagli assurdo raga raga copre con me dai ai frank raga chi guarda con me b raga dove sono raga che spara aspetta raga stanno facendo ste mi raccomando non lasciate non fate no no stanno facendo ecco ulisse tu campera sento passi raga passi in radio silenzio stanno cantando in b raga sono passati da fuori ma che stai dicendo si ho passati da fuori ma chi cazzo è che guarda fuori non c'era nessuno fuori tu devi guardarlo fuori non c'era nessuno fuori lo devi guardare tu fuori no cazzo ora sperate raga sono tutti nì sono no che mi ha fatto col coltello non ci credo che rimasti i soldi è rimasto ship incondotti vieni giù vai vai uno depurato uno depurato e l'altro aprile ma quando è uscito vai depurato ce lo fai non ho il kit no il kit merda non ho il kit dai però no c'è un po' il pacchetto vabbè vabbè come fai a prendere il kit vabbè no no raga io ho visto gente morire da coltellate è brutta quella eh no infatti quella è brutta mia compratta qualcosa di leggero più di cinquanta io mi compro il kit pass ma se no ma come ho fatto ad arrivare in b non lo so eh nessuno guarda fuori mi stavo guardando veramente e da dove sono passati scusami non lo so condotti non hanno avuto nulla condotti 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 una scesa dai sparate però adesso sporata ai 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 dai drive condotti ma non muoio now dai quando vov va quando viva pescita va tantissimo a apartment raga eh ektor 12 ed è sei Ciao Porto Porto Arigato la mas Dai raga Raga io Non si può Ecco raga dobbiamo comprare L'ultimo round Oh mamma Siamo 3 a 14 Brutta cosa veramente Eh vabbè raga mi accoltellate pure però eh Dove sei io? Non ti vedo Sono pagato Peppo non ti vedo eh Come non mi vedi? Come no? Come noi andiamo davanti al mini vicino Ok raga condotti con atti con atti con atti tutti quanti Ai 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 mi ha fatto malo Malox ti ha fatto un flash Sì sì Ah mi hanno flashato mannaggia il loro Eh dietro gioco dietro dietro sta scendendo da forti Come sta scendendo da forti Eh vabbè però raga Vabbè cazzo Eh lo so pensavo non ci faceva se nessuno di lì Che casino Ah no ma guarda la kill capito ma guarda la kill No ragazzi E' l'ultimo round Eeeh Ma c'è proprio che cosa Ragazzi dove fanno a passare a condotti senza che nessuno muore Ma chi è che si muore? Eh vado io Perché non c'è un cazzo di nessuno che fa fuori Eh sono da sola Ah non capisco C'è ieri passavano a condotti e le massacravamo Ti ricordi? C'è la game really che lanciava la granata sempre a condotti non passano proprio Ma è diverso Non mi fa mai passare a condotti Ho sentito ancora condotti Eccoli di nuovo Ancora condotti Ah ah Morto chip La bomba in due Eh stanno plattando in a Blink sto plattando Vai fatelo fuori Grande Ulisse Grande Ulisse Ma che grande Ulisse Ma che grande Ulisse Raga io sono in giro Che non volete Buonissimo Ulisse Conci che sai come è Bravo Ragazzi Ragazzi No 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 Devo dire una cosa molto importante Andiamo da pareggiare Dai 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 No 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 Raga minchia Raga con i denti Raga L'ultimo round No Affacciatevi Ragazzi Io vedo un po' di posizioni sbagliate Ma vabbè Vedo che può fuori Io non capisco Ma che cazzo No Frank non ce la fa salire Eh ragazzi Non ce la gioco male comunque Fatevelo dire Bella Occhio radio Sento passi Ecco sono sulla lamiera A meno che non vanno sul tetto fuori Oh 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 Vado scusa Ma fuori chi sta guardando? Io 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 Sassi tu quello si A posto ho fatto l'ora Ho fatto l'ora La lamiera sopra il caraccio E copriti copriti adesso Sei buono Sopra il tetto Vero? Sì sì Sopra il tetto Contro atina Contro atina Sì sì Stanno facendo 6 Mi raccomando Ok c Stanno ben Ragazzi sento passi Ragazzi vanno da sotto È fuori? Sì sì da fuori Sono in B Stanno andando Sì sì quasi Sopra la ugg Sopra la ugg Padre va bene va bene e sei cominciata in paradiso con giugno il secco che ce la faccio fare la scuola fuori con c'è il mio sito ok ma tu le mole tutti i spazio nasciano passano a o b satanata ragazzi sono due in un'altra bomba raga ne ho fatti di rampa ragazzi rampe ragazzo per amore ma assurdo tempo creato al bidone raga ne stanno plantando dove la bomba c'è andare a sinistra bambi aspetta c'è il lupo aspettando aspetta ecco l'ho preso l'occasione ma ragazzo mi sa stavina bello e il gg giugno mamma mia mi capo non ragazzo ragazzo vado io lì dietro ho la vp tu non lo sa non lo sapevo e vieni 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 non mi interessa se può girare con la vp dentro occhio radio 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 sono di nuovo qua sono tutti i ramp e nuovo ma porca paletta ragazzi rampa arrivano fisse ulisse eh fammi arrivare cioè blink morto sono scesi già sono scesi blink blink e la meno spesa guarda sulla destra ah guarda ah guarda ah guarda luca ancora su rampe con la bomba veloci preso preso ah fa giù chip vicino rampe di sotto cazzo no xander xander madonna ciollanza ecco 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 nooo nooo ho sparato nooo aiuto 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 è conclusa così hanno vinto hanno vinto l'oro hanno vinto l'oro hanno vinto la prima partita ragazzi hanno vinto la prima notare le mie kill notare le mie kill che sono state molto interessanti bravo ma no vabbè casi chiunque un applauso mamma mia gg ci sono tantissimi vi invitiamo a vedere anche la visuale del nemico esattamente troverete che ha citato che ha citato lasciate stare hai zitto tutto che tu non puoi parlare ciò vedete tutti ma scusa ragazzi comunque qui sotto in descrizione ragazzi troverete tutti i vari canali che l'ho registrato andate a vedere tutte le altre visuali ci hanno arato complimenti a voi ciao 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 ragazzi ehi tu si dico proprio te sei nuovo da queste parti si allora mi presento io sono lisse e questo è il mio canale qui potete trovare video di minecraft ma non solo il canale è anche pieno di video di gameplay quindi che aspetti vieni a osservarlo più da vicino persone o animali o bambini non sono stati sfruttati per realizzazione di questo video